Il mio amico Massimo Venturiello, in uno splendido spettacolo, a me i cornetti con la crema mi anausiano. Anausiano? Anna, ma sei sicuro? Senti, dovresti fare una visita ad Ania, a proposito di Anna, perché lei si sta truccando. E quindi è il duopo, è il duopo, è il duopo, è il duopo, è il duopo. Ania! Dove è qua? Questa qui? Si può? Oddio, ciao! Ci si sta truccando? Si, mi sto truccando e mi sto preparando per lo spettacolo che mi sa oggi, è molto importante che c'è tanta gente. Si? Questa è? Bene, bene. Bene, ma sei arrivato adesso? Si, si. Questo è il backstage ufficiale. Si, infatti, Angelo mi aveva detto. Quando doveva te, mi sa, era un po' prima, così, mi preparava. Cosa consiste il trucco? Cioè, è molto da fare? E ma io, sai, mentre mi trucco, mi sto preparando, è come un rito, mi sto preparando mentalmente, sai, per lo spettacolo, il passo ripartuto, la testa. Quindi sei molto concentrata? Si, entro un po' nel personaggio e non è proprio il trucco, come trucco, no? Si. È più preparazione per lo spettacolo, più mentalmente. Allora, ti lascio concentrare, ok? Dai, vai a fermare i maschili. 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 Grazie.